E' arrivato alla sua ottava edizione, il concorso di danza Piero della Francesca, patrocinato dal Comune di Arezzo, avrà una location di prestigio, il Teatro Petrarca. L'appuntamento è per domenica, 13 febbraio. Dopo due anni di pandemia non è stato assolutamente facile. Infatti questa è l'ottava edizione quando in teoria sarebbe dovuta essere la decima. Però penso che ci abbiamo messo tutto il cuore per recuperare alla grande in questa ottava edizione. Abbiamo degli ospiti internazionali, la direttrice dell'Accademia di Stato di Vienna, la Cristiana Stefanot. Abbiamo ospiti anche in giuria che fanno parte anche del panorama italiano ma che sono coreografi affermati e che sono in grado di dare delle borse di studio e dei premi per agevolare i ragazzi a entrare in quelle che sono grandi accademie di formazione e nonché anche delle prospettive di ingaggio di lavoro. Abbiamo fatto in modo che questo concorso fin dall'inizio fosse aperto a tutti. È ovvio che nel corso degli anni il livello si è alzato anche come esibizioni. Però resta il fatto che comunque è dedicato alla danza amatoriale, nonché dalla danza amatoriale vengono fuori poi dei talenti. E questo per noi è stato ed è ancora una mission che noi cerchiamo di portare avanti con tutte le nostre attività, tra cui il concorso.